Il risultato acquisito, vediamo che la fascia di capitano passa sul bicipite di Maxi e Marzini, mentre Cristiano Ancher prende il posto di Beppe Genchi che si allontana dal punto di gioco. Ricordiamo, trasferta vietata ai tifosi del Tarot, la cui decisione si è espressa in maniera non positiva in presidenza del Tarot che era stigmatizzata. Stretta di mano tra Genchi e Mr. Cazzara, 20 gol per lui.